Assessore, ci parli di questo progetto che vede coinvolto il Comune di Caltanissetta per quanto riguarda la sensibilizzazione alla lettura? Sì, è un progetto che è iniziato a dire verità durante la delega alla cultura che aveva il mio collega Campione, che insieme a delle persone che collaboravano nel suo staff aveva lanciato alle scuole sia primarie che superiori della città un progetto per sensibilizzare i bambini e gli studenti alla lettura ma soprattutto alla conoscenza e alla lettura in biblioteca comunale, la nostra biblioteca comunale. Questo progetto è stato lanciato alle scuole, hanno aderito già diverse scuole, elementari, medie e superiori. La cosa interessante è che le scuole superiori, in particolare l'Istituto di Istituzione Superiore Manzoni, Iuvara, il Liceo Mignosi, il Mottura e anche il Liceo Classico, saranno gli studenti che guideranno le letture, animeranno le letture e le visite in biblioteca agli studenti delle scuole elementari. C'è fantascrivendo, gioco leggendo, quindi stimolare la lettura ma soprattutto conoscere meglio e fruire e vivere la nostra bellissima biblioteca comunale con un patrimonio storico molto importante. C'è anche una piccola sala per i lettori che cercheremo di sistemare ancora meglio, di arricchire di libri e di accessori per rendere vivibile e gradevole la vita in biblioteca anche dei bambini.